Siamo in collegamento, torneo H24 che vede ora affrontarsi il KTM Napoli contro il VIP Club Formazioni in campo che si giocano il primo posto nel girone, ora Martone da calcio d'angolo Ricordiamo il risultato di 0-0 tra le compagini in campo Martone numero 10 KTM, la palla al centro, troppo lunga per tutti, nulla di fatto, il pallone si perde in fallo laterale Ancora Fallo laterale da ripetere La giocata ancora Del VIP Club che prova per ripartire il contrasto, ora di Martone, la palla che termina in fallo laterale per il VIP Club La palla al centro, Pipino liscia, in qualche modo libera la retroguardia KTM Che ora prova per ripartire con Ciotola, pallone però intercettato dal VIP Club Che ora prova la conclusione, la parata dell'estremo difensore Ma c'è il gioco fermo, ha subito un colpo Calcio di punizione Anzi palla scodellata, Martone, lancio lungo, la palla istituita alla squadra avversaria, bel gesto di fair play Ancora Possesso di palla, VIP Club KTM si chiude, la ciotola, la palla a partire, palla al piede, il pallone è messo in fallo laterale Pipino sul punto di battuta La palla al centro, forte per Santoro che prova il controllo Riesce a tenere il possesso di palla La palla ora è ancora preda del KTM che prova a gestire il possesso di palla Ancora splende la giocata, la palla messa al centro di Forino La palla che ora termina in fallo laterale Pallo laterale, KTM Napoli con Forino Che la mette al centro per Santoro che prova a controllarla Ora VIP Club che prova a ripartire, palla al piede Riesce a creare la manovra offensiva Il pallone è filtrante, Pipino intercetta la sfera Prova la nascere, rischia lì in difesa Il tiro, la palla Che si zacca 1-0 VIP Club Errore di Pipino lì in difesa Ne approfittano i giocatori VIP Club E con questo possiamo chiudere il collegamento Per quanto riguarda questo match Un saluto da Boateng Ciao ragazzi